buongiorno a tutti dal vostro capitan napoli benvenuti in questo nuovo video è sempre forza napoli nella buona e soprattutto nella cattiva sorte prima di iniziare ricordo moltissimi vedono i miei video e non sono ancora iscritti al mio canale iscrivetevi iscrivete al mio canale completamente gratuito non vi costa niente mettete like alla campanellina perché così quanto farò tutti i miei contenuti meno uno dal giorno della partita con probabili informazioni post partita live reaction trasferte di tifosi napoli calcio mercato e tutti gli speciali non vi perderete nessuno del mio video allora vi dico già che voglio dividere con voi questa emozione ho finalmente acquistato la maglia ufficiale ssc napoli di questa stagione perché fino in questo momento vedete non l'avevo ancora tra virgolette quelle vecchie voglio condividere con voi questa emozione ho usufruito essendo iscritto la ssc napoli mi è arrivato una mail il 31 marzo dicendo che il primo aprile il 2 aprile 3 aprile c'era lo sconto del 20 per cento un po su tutto sulle maglie del napoli sulle repiche sulle tute quindi opere ho aderito approfittato di questa bellissima scontistica in definitiva ho preso la maglia del napoli vi farò vedere ssc napoli replica che da 45 euro a 36 euro mi appena arrivata adesso me la sua fatta spedire tramite amazon l'ho comprata il primo aprile il 2 aprile sabato e già oggi stamattina mi è già arrivata me la sua fatta a recepire su un cento di quelli lì dove ti danno un codice via email dove tutela poi andare a prendere è la soluzione migliore invece che farsela spedire a casa perché se lavori non ti trovano quindi l'ho fatta spedire un indirizzo in un centro commerciale ad esempio magari dove tu vuoi dove tu la poi andare a ritirare e amazon ti manda una mail con un codice tu davanti a questo sgabiozzo blu su questo display i palmani dc questo codice si aprono sport e vini ti prendi la mano eccolo qua vedete questo è il pacco vedete di amazon adesso apriamo andiamo a vedere la maglietta appoggiamo qua eccola qua vedete bellissima ufficiale ssc napoli vedete è ufficiale qua c'è tutto vedete c'è il sacchetto logato è un po garmani io ho preso la taglia xl adesso ve la faccio vedere voi non l'ho ancora aperto vedete il sacchetto eccola qua aspettate che tolgo la plastica eccola qua vedete originale al cento per cento vi faccio vedere anche che devo baciare lo stemma vedete questo è la certificazione che è un prodotto ufficiale vedete ssc napoli bellissimo vedete con scritto ufficiale ufficiale del napoli veramente veramente molto bella guardate fatta così originale a me piaceva anche quella lì che dell'europa league che in definitiva sotto la parola acqua lette non ha msc e c'è i bordi dorati ed indeciso tra quelle questa vedete di lato parte un ufficiale amazon vi faccio vedere dietro cosa c'è scritto vedete ssc napoli xl xl devo dire che è fatta molto bene rifinita molto bene è molto bella questa che la replica che costa quasi un terzo di quella proprio da gara sono veramente molto contento veramente molto bella non la indosserò adesso la indosserò stasera penso oramai lo sapete tutte le nostre stasera appunto vi ricordo che stasera dalle 21 farò la live qua ovviamente su youtube dove per la prima volta indosserò questa bellissima nuova maglia del napoli replica ufficiale 21 22 parleremo del grande napoli che ha sbancato bergamo il napoli che continua il sogno tricolore almeno il sogno tricolore non dico altro e seguiremo insieme anche la partita tra milla e bologna sportivamente staremo a vedere che cosa succede quindi vi ha fatto vedere bellissima maglietta vi consiglio anche voi di comprarla la replica molto bella adesso la scontistica è scaduta è per il 1 2 3 aprile adesso è tornata a 45 euro più le spese di spedizione bisogna vedere se sei buon atto a premio o no comunque vi auguro una buona serata dal vostro grande capitano aprile ci vediamo più tardi più tardi alle 21 per la live di capitano napoli sempre forza napoli ciao